Se l'amministrazione locale e del servizio di nettezza urbana giocano un ruolo fondamentale nel mantenimento della città, allo stesso tempo il comportamento di chi il centro abitato lo vive e lo abita diventa determinante, e quello di alcuni cittadini non è certamente esemplare, come nel caso del castello Visconteo di Voghera, dove il ciottolato, le colonne e la porta di legno presenti all'ingresso dell'ala ristrutturata vengono puntualmente scambiati per un diario su quale annotare dediche, disegni o frasi di canzoni, come la strofa del brano di Tiziano Ferro comparsa in questi giorni sulla pavimentazione. Un maggiore controllo da parte dell'amministrazione e una maggiore fermezza nel multare chi trasgredisce sarebbero senza dubbio auspicabili, ma in casi come questo la pulizia e il decoro della città, in particolare di luoghi così importanti come il castello, restano affidati alla responsabilità di chi voghera la abita. Aiutateci a far conoscere tutte le criticità, se volete inviateci foto o video all'indirizzo mail redazione-jabtv.it oppure attraverso la nostra pagina Facebook. Le nostre telecamere documenteranno e denunceranno tutte le situazioni da voi segnalate. Grazie. Grazie. Grazie.